Hanno ragione entrambe. Domanda Le manifestazioni dell'io e del non-io, che cosa dovrebbero insegnarci? Guida Hanno ragione entrambe. Quando qualcuno vuole sopraffare qualcun altro, è sempre una manifestazione dell'io che deve crescere a dismisura sopra un altro io. E finché non è cresciuto a dismisura, troverà il modo per crescere ancora di più, perché è l'unico modo che ha per conoscere. Nessuna delle due parti è esente da questo processo, perché ciascuna detiene un piccolo frammento di verità. Grazie